vicino non attaccare il centro del campo palla bella Marco comunque aspetta ma no c'è giù siamo pari stavolta palla non lo so magari c'è una motivazione ok ok occhio salto 0 2 su 4 che vuol dire vai che vuol dire 0 che vuol dire non sono solo 1 ok vula credevo indicarsi qualche posizione Marco vuoi battere un paio tu? palla ma si dai ti fa bene 2 su 6 occhio giù 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 no ma non vuole si linea vula 0 2 su 7 2 su 7 no no palla devo chiamare indietro devo chiamare indietro sì ce l'ha prestato bene bella bellissima 3 su 9 poi puoi vincere anche così eh sì non è male palla si vai vai Roby 3 su 10 ma non possiamo passare vai 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 no stavo chiamando Marco a battere dopo palla ehm questa è stata trossata chiariamo che non c'erano eh ahahah guarda tutti e due poli eravamo tutti e due di qua no ma io mi ero messo lì no ma mi aspettavo una volta ma ci siamo più privati mia vale 4 12 ma questo maiale 6 12 chi è quell'Ale? si se la palla alta fa più fatica i razzolini sta a te chi è con la palla di mezzo che attaccano mia ok ok maiale pensa di far meno fatica perché mi fa 5 ma la palla mi ha un scolo ma dico mi fa palla palla lo prendo perché sono fuori sì di prova anche apri la tente devo battere da 1 a 5 no ma tu lo vuoi ah ok a sinistra poi non a 5 ma anche a 1 a 2 1 a 1 non la prendere dietro la palla lavora eh faccio l'ultima battuta bravo Mike si ah buona buona 2 balla mi sento scasso sullo stacco di ago io No, sullo stacco di arco, quando io ce ne diago quello, sullo stacco dove, scusami, tu vieni in linea. Bene, 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 bene. 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 Bene, bene. 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 e ti posizioni di conseguenza è una palla a battere dai un 12esimo punto questo 7-12 sono in combutta contro Mike 7-12 buona palla out palla oh toro mettila giù figa eh che cazzo eh che cazzo picchia forte 1-2-2 dai perché non può tenersi dentro le 23 non può tenersi dentro le 23 no ecco figa quella lì che l'ha messa in mano bravo bravo lo poteva fare bravo bravo gran cosa fortissimo veramente con solo quello che abbiamo preso esatto più di una volta bravo mi deve battere se vuoi zio perdono bravo 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 e fa il punto volevo che lo sapessi palla 0 come sei? l'impalla è già si fa tutto io e lo mescio a lì f***a ho fatto cambiare 3-6 si vai raga una palla cazzo andiamo pula non sta nemmeno dietro e basta 5-9 giusto e basta no 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 dovevo star lì sotto No, l'ho sbagliato io. No, l'ho sbagliato io. Sto fanno la posizione. La posizione. Lignato. Sei uno in serio? Non lo fa scappare. Sei scappato. Voi voi ragazzi. Vai, voi. Ok. Palla. Eh, lasciamo. Lignato. Ma ce l'hai? Ce l'hai? 7-12. Sì. Vai ragazzi. Andiamo a far punto. Lignato. Out. 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 Ah, no. Eri alto, Gabi. Eri alto. Bella, bella. Bella, bella. Passa. Ma che c'è? Sì, sì, sì. Si, sì, sì, sì. Favora. Alla vaffo Balla Passiamo noi alle 23 che facciamo casino Porco dio Alla finestra Senti questo Sì Va bene puttanella Balla Tra l'altro andrassi a Youtube A guardarsi tutti i video Ci sentirei a fare Vai puttanella Ah 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 Alla Sì Stai dietro Ah Ovviamente fallo di trattenuta 4-6 Ero verso il poliziano Ero verso il poliziano Eh Non tenere già Fantasio No perché voi Vero 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 Allora Casullo La chiamata Segue il giocatore Vero Solo baggerli Vero Vero Solo baggerli Vero 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 Ah dopo Zero Ma mi battevo Sì Vero 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 Zero No E' adesso Stancali Palla 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 Un gran palla. 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 Un gran palla.